Ciao a tutti ragazzi, bentornati all'Orto Bruno. Oggi parliamo di semine, parliamo in particolare di quelle che sono le semine tra pianti da effettuare. Nel mese di settembre, per poter andare incontro a quello che è l'autunno, presto entrerà nel vivo l'orto autunnale e anche l'orto invernale, ci sono delle semine da effettuare, a dir la verità andavano effettuate già in precedenza tra la fine del mese di luglio e il mese di agosto, soprattutto per chi va incontro ad un autunno-inverno un po' più rigido di quello che abbiamo qui in Puglia a livello del mare, però in ogni caso è ancora tempo per poter effettuare semine, in qualsiasi zona voi vi troviate, a meno che non vi trovate proprio in alto, diciamo in montagne, quindi andate incontro già alle prime gelate nel mese di ottobre, però insomma si possono fare delle semine, andiamo a vedere quali sono, andiamo a vedere quali sono le piante che si possono trapiantare anche in questo periodo dell'anno, io mi sono già portato un po' avanti con il lavoro perché ho effettuato le prime semine nel mese di agosto, all'inizio del mese di agosto, in modo scalare un po' lungo tutto il mese scorso e continuo ad effettuare semine anche perché qui con questo clima bene o male possiamo permetterci anche di lasciare determinate colture in campo nonostante le poche insomma le lievi gelate che ci possono essere durante l'inverno. Ma bando alle chiacchiere vi faccio subito vedere che cosa si trova nel semenzaio dell'orto bruno e magari scrivete nei commenti se anche voi state coltivando le stesse varietà. E allora eccolo qui il semenzaio dell'orto bruno, piccolino perché l'orto che si trova là dietro sono solo 150 metri quadri e quindi non c'è bisogno di avere un semenzaio gigantesco. In questo periodo dell'anno quando il caldo dell'estate inizia un po' smorzarsi, le giornate si accorciano un po', devo dire che il semenzaio va alla grande perché le temperature sono comprise tra diciamo i 18 gradi serali, notturni e i 26-27 la mattina e quindi è un range di temperatura perfetto e le piante spingono alla grande. Andiamo a vedere che cosa ci offre il semenzaio, il tavolo del semenzaio dell'orto bruno partendo da questa varietà qui, vi faccio vedere partendo da destra, in questi vasetti ho ripicchettato la varietà di cavolo cappuccio barlettano, una varietà di cavolo antico per chi mi segue sa di cosa sto parlando, se non conoscete questo ortaggio andatelo a vedere nei tour dell'orto di dicembre e gennaio, è una varietà appunto di brassica antica che produce una sorta di verza ma con un fusto abbastanza alto, un po' come il kale, quindi un po' come il cavolo nero o magari il cavoletto di Bruxelles, però in cima produce questa palla, questa verza che poi si raccoglie una volta che ho raggiunto una buona pezzatura. È un cavolo buonissimo, questa è una varietà antica, purtroppo alcuni semi si sono ibridati, devo dire la verità è la prima volta che ricavavo dei semi di questa varietà e si sono ibridati con la cima di rapa, quelli che hanno germinato come cima di rapa li ho scartati, questi qui dovrebbero conservare le caratteristiche tipiche del cavolo cappuccio barlettano. Non avevo più spazio per poterli mettere in vasetti più piccoli, singoli e quindi ho deciso di trapiantarli insieme quando raggiungeranno una dimensione un po' più grande di questa, poi separerò le piantine e andrò a trapiantare radice nuda nell'orto. Qui a fianco degli alveoli che non stanno andando perché la semente è molto vecchia, ne ha germinato solamente uno, pensate un po', e per ogni alveolo ho messo 5-6 semi, ero consapevole di questo ma ci ho provato lo stesso e il finocchio varietà chiarino, ci avrò messo quasi un centinaio di semi qua, però guardate solamente uno è germinato, è una busta di semi che ho comprato praticamente quasi 3 anni fa e ormai non hanno più germinabilità. Ma ci può stare, rifarò una semina qui sempre di finocchi, vediamo di quale varietà magari me lo potete consigliare anche voi nei commenti. Qua a fianco invece è la regina dell'orto pugliese e anche dell'orto bruno perché chi conosce l'orto bruno sa che questa varietà di brassicacia si trova praticamente in quasi tutte le aiuole sto parlando della cima di rapa ovviamente. Questa varietà sessantina, ossia dalla semina raccolto ci impiega circa 60 giorni, nella pratica in realtà un po' di più devo essere sincero, ed è una varietà originaria della città di Molfetta. Le piante sono cresciute bene, se non che negli ultimi giorni abbiamo avuto un ventaccio fortissimo di tramontana che le ha fatte un po' piegare, quindi vedete le piante erano già un po' filate perché le avevo seminate per ogni alveolo, ne avevo messo 4-5 semi, poi ho rimosso quelle più deboli, ho lasciato le più forti, all'inizio le piante hanno un po' filato, quindi magari il consiglio che vi do è quella, se voi fate una multisemina, cioè una semina di più semi all'interno di un solo alveolo, rimuovete le piantine più deboli subito, altrimenti quella che poi selezionerete tenderà a filare, come è un po' successo qui. Filando è più esposta al vento e quindi le piante si sono un po' inclinate, quindi questo è il risultato, ma devo dire che tutto sommato le piante stanno bene, tranne qualche piccolo fastidio qua, però insomma stanno bene più o meno. Questa è un'altra varietà molto utile da seminare in questo periodo, a settembre le bietole, in particolare queste sono bietole colorate, Swiss chard, le chiamano gli inglesi o gli americani, e devo dire che hanno germinato tutte molto bene, tranne questo alveolo e questo alveolo qui, ma per il resto, come potete vedere, già si intuisce il colore, queste sono di colore rosso, verde e giallo. Le andrò a seminare a grappolo, cioè non andrò a rimuovere la pianta, non lascerò per ogni alveolo una sulla piantina, ma le pianterò a grappolo, perché devo dire che mi sono trovato sempre bene, la produzione è buona, magari la pezzatura delle foglie è un po' più piccola, però va benissimo così. Qua sulla sinistra invece abbiamo le barbabietole, in particolare questa la varietà di chioggia, non stanno andando benissimo, soprattutto alcuni alveoli non hanno proprio germinato, altri stentano un po' come questi, parleremo anche di questo argomento qui, di quale sia la concimazione migliore da dare per le piante che si trovano negli alveoli per farle radicare bene, ma cos'è la barbabietola a varietà di chioggia? Ci tenevo a dirlo perché è molto bella, devo dire, oltre ad essere buona, se tagliate in due, vi accorgerete che all'interno ha dei cerchi concentrici bianchi e rossi, quindi non è solo rossa come di solito sono le barbabietole, ma ha questi cerchi concentrici molto belli, devo dire. Qui a sinistra invece abbiamo le cipolle che andrò a piantare e raccoglierò come sponze, le sponze non sono altro che cipollotti raccolti prima che i bulbi vadano a maturazione e che vengono seminati a grappolo. Due sono le modalità di coltivazione delle sponze, così si chiamano, sponsali, le andrò a spiegare in un video apposito perché poi è una varietà di cipollotto tipica della Puglia. Gli sponsali possono essere seminati o, diciamo, come, possono essere coltivati anzi, o come nuova semina e quindi a grappolo, così, e poi si tirano via come un unico mazzetto dal terreno, oppure si può anche interrare semplicemente il bulbo della cipolla che si è ingrossato durante l'estate precedente. Quindi, ad esempio, noi facciamo una semina di cipolle, non lo so, a febbraio o marzo, vanno raccolte a luglio, a settembre le mettiamo nel terreno, quella cipolla germoglierà e produrrà un mazzo di cipollotti che, tecnicamente, dovrebbero andare a fiore, ma se noi li raccogliamo nel mese di novembre, dicembre, a circa due o tre mesi dalla semina, raccoglieremo questo splendido mazzo di sponze, quindi di cipollotti, che possono essere poi preparati in mille modi diversi, ma ci dedicherò un video apposito alle sponze. E poi, come vi ho detto, la seconda modalità di coltivazione è seminarli, appunto, a grappolo, a mazzetti all'interno degli alveoli e quindi raccogliere sponze come cipollotti al primo anno. Qui invece abbiamo dei radicchi, questo è un radicchio che non mi ricordo, è un po' rossiccio, quest'anno ho avuto in regalo dal mio amico Massimiliano tantissimi semi di radicchio, che lui spesso si trova in Veneto e fa man bassa di semi di radicchio, ma li ha regalati. Non mi ricordo che varieta è questa, però poi ve lo scrivo nella descrizione del video. Qui a sinistra invece dei radicchi che non sono andati per niente, questo è il radicchio di Treviso, devo trovare un'alternativa per questi. Vediamo un po'. Qui sto provando a fare altre piantine di sponze da delle piccole cipolle che non erano abbastanza grandi per il consumo e quindi le ho messe in questo vasetto in attesa di metterle poi in campo e coltivarle come cipollotti. Qui invece abbiamo tre moduli in cui ho piantato tre brassicacea diverse. Qui ho messo il cavolo rapa, il corrabi verde, qui ho messo il corrabi rosso e qui ho messo il cavolo cinese, brassicacea, se non sbaglio Napa si chiama, nome scientifico? Vabbè comunque anche questo ve lo scrivo nella descrizione del video. È la prima volta che coltivo il cavolo cinese, avevo già coltivato il pak cho in precedenza, mentre è già la terza volta che coltivo il cavolo rapa che devo dire che qui viene abbastanza bene ed è impossibile da trovare nei frutti vendoli o nei supermercati quindi ne approfitto e faccio questa semina del corrabi qui all'orto bruno. Qui due alveoli comprati al vivaio che diciamo in parte ho già seminato, soprattutto i finocchi, questa è una varietà ibrida, non mi ricordo quale finocchio, però come potete notare sono qua già da un po' troppo tempo, questa pianta è ormai irrecuperabile. Questa anche non è che sia proprio messa bene, vediamo un po' se magari faccio un ripicchettamento e gli do un po' di concime se si riprendono in modo che riesco a fare anche la seconda piantata di finocchi perché i primi li ho messi una settimana della favola, devo aspettare un paio di settimane prima di fare l'altro giro, ma evidentemente le piante sono già un po' in sofferenza. Qui invece abbiamo un'indivia, anche questa non sta un granché, la prima volta che metto l'indivia nell'orto bruno, non vado proprio matto per questo tipo di insalata, però l'ho vista lì in vivaio, mi ha incuriosito questa insalata con queste foglie un po' seghettate e la devo andare a trepiantare appena possibile. Qui invece possiamo notare altre brassicacee e altri radicchi. Che brassicacee sono queste? Questo è il cavolo verza di San Michele, anche questa è una semente regalata dal mio amico Massimiliano dal Veneto perché questa è una tipica verza veneta di colore violaceo, molto bella da vedere e devo dire che sta andando bene. Ho ripicchettato le piante che prima si trovavano in un modulo come questo, le ho ripicchettate pochi giorni fa e stanno già spingendo. Sono circa una decina di piante e le andrò a mettere non appena si svilupperanno un po' di più. E qui abbiamo un altro radicchio che ha sofferto un po', ma adesso si sta riprendendo. Questo è il radicchio ripicchettato, era nello stesso modulo che vedete qui. Questo è il radicchio di Masera e il radicchio di Castelfranco. Ora, li ho un po' mischiati tra di loro, non sono proprio precisino quando si tratta di queste cose, di mettere in ordine le piante, però qui la differenza delle foglie è tale che me ne accorgerò appena le piante cresceranno un po', perché il radicchio di Castelfranco e il radicchio di Masera hanno colori completamente diversi tra loro. Cos'altro devo farvi vedere qua dal semenzaio? Ah sì, vi faccio vedere questo tentativo di talee, perché ha seguito l'ultimo tour di agosto, vi ho detto che avrei provato a fare delle talee di pomodoro per cercare di riprodurre, di clonare la varietà di pomodoro ibrido che ho messo quest'anno in campo, sia il pomodorino skate e il pomodorino fiaschetto, per poterlo ottenere poi anche l'anno prossimo, poterlo coltivare l'anno prossimo. Le talee però, come potete già accorgervi da queste immagini, non stanno andando alla grande. Vediamo un po', questa sembra quella più in condizione, questa non si capisce, vediamo che cosa succede nei prossimi giorni. Se non l'avete visto, ve lo metto qua, il video del tour di agosto, qui in descrizione. Qui sotto un modulo un po' isolato, qui ci ho seminato dei semi di una pianta forestale che io adoro, che è il cipresso, questo è il cipresso messicano, i semi che ho trovato su internet e che ho messo qui negli alveoli in attesa di, una volta germinati, di andarle a ripiccattare in vasi un po' più grandi. Settembre è il mese per poter seminare i cipressi, quindi se vi piacciono i cipressi o volete seminare alberi di cipresso, fatelo in questo periodo dell'anno perché le temperature un po' più fresche favoriscono la germinazione di questa splendida pianta, di questo splendido albero. Questo materiale che vedete qua sopra, che avete visto anche nel modulo che si trova qui è vermiculite, è un materiale legnoso, un po' brillante, che serve a garantire un substrato di radicazione più leggero e drenante e anche a conservare l'umidità. Quindi se avete possibilità di comprarla, fatelo perché davvero conserva l'umidità in un modo ottimo, soprattutto per chi vive in climi un po' più caldi, lì dove soprattutto settembre è più che altro un appendice dell'estate più che l'inizio dell'autunno, insomma può essere molto utile nel semenzaio appunto in vista dell'orto autunnale invernale. Chiudiamo con questo prodotto qui, voglio far vedere che mi è stato consigliato sul gruppo di orticoltura rigenerativa, ringrazio chi me lo ha consigliato, ed è il guano di pipistrello. Può suonare un po' disgustoso come cosa, però può essere utilizzato come concime in quanto ha una buona titolazione di fosforo, cioè una buona carica di fosforo e il fosforo è un materiale, è un elemento importante per la radicazione delle piantine, delle plantule da semenzaio e quindi mi è stato consigliato per avere una buona radicazione, perché uno dei problemi di alcune specie che coltivo qui e che vado a seminare nel mio semenzaio è che non germinano benissimo, soprattutto le lidiacee, vediamo se con una mano riesco a tirarvi fuori magari una piantina, non germinano proprio alla grande e quindi hanno, cioè germinano, non radicano alla grande, vedete? Non ci sono molte radici, nonostante ci siano tante piantine, però la radicazione è un po' un po' misera, soprattutto le lidiacee e i radicchi, ho notato questo problema e quindi voglio vedere se con questo concime biologico carico in fosforo riusciamo a dare una spinta in più alle radichette delle piante da semenzaio. In ultimo, ma non per ultimo, il terriccio che ho recentemente cambiato, questo terriccio qui da semenzaio che ho comprato da un bivaio che è orticolo e quindi mi fido assolutamente è questo terriccio qui con veramente di... la tessitura è molto molto fine, non ci sono pezzi di legno o, come dire, grumi o pezzi di torba particolarmente grandi e quindi le radici delle piante, delle piantine da semenzaio riescono a farsi strada facilmente. Si chiama Brill, la marca tedesca. Devo dire che mi sono trovato molto bene anche quest'estate, col semenzaio ho iniziato questa primavera con questo terriccio e devo dire che è migliorata la qualità del mio semenzaio rispetto a come lo facevo prima in modo un po' più approssimativo con un terriccio universale normale. Ovviamente tutte le varietà che avete visto fino ad ora sono varietà che sono state seminate qui all'Orto Bruno a cavallo tra agosto e settembre, ma nulla toglie che si possano ancora seminare in questo periodo dell'anno, durante il mese di settembre. Affrettatevi perché altrimenti poi, soprattutto per le zone più fredde, potrebbe essere troppo tardi per seminare determinate varietà, però non abbiate paura di procedere in questo momento, piante come le brassicacee o le sponze, quindi i cipollotti, possono essere assolutamente seminati in questo periodo, anche i finocchi più tardivi che magari vanno a essere trapiantati all'inizio del mese di ottobre, soprattutto per chi si trova al centro-sud c'è possibilità di coltivarli senza alcun problema, quindi abbiate coraggio, se siete ancora un po' in ritardo non preoccupatevi, c'è del tempo per poter seminare, però insomma cercate di stringere un po' i tempi. Eccoci qua, allora, per il momento è tutto dal semenzaio dell'Orto Bruno, se avete le stesse specie, se avete consigli ovviamente, se avete qualsiasi imbeccata da darmi per il semenzaio, ovviamente questa è ben accetta, ben accolta, fatelo nei commenti, scrivete, poi mettete un bel mi piace a questo video, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e come al solito anche attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui contenuti dell'Orto Bruno. Io per il momento vi saluto qui dal cuore della Puglia dove ancora sembra estate, ma l'autunno sta per arrivare, quindi attivatevi col semenzaio, mi raccomando, a me non resta quindi che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!